I miei sorelle mie, sono io, la vostra sorellina Bernadette, la bella Signora vicina ad ognuno di voi. Lei è tutta vestita di bianco, con un nastro azzurro intorno ai suoi fianchi, due rose e gialle su ciascun piede. In questo momento è scesa così come mi apparve nella mia prima apparizione. Tremavo, ma non per il freddo. La bella Signora mi disse, Bernadette, stai tremando per la mia presenza? Bernadette, stai tremando per la mia presenza e non perché ti sei bagnata attraversando il fiume. All'improvviso mi ritrovai asciutta e avvertivo un forte calore. Fratellini mie e sorelle mie, la bella Signora desidera farvi avvertire il suo calore. Vuole guarirvi, ma vi chiede di avere fede in Gesù. Il cielo è pieno di rose gialle che profumano. Un giorno tutti potrete raggiungere il cielo e godere questa meraviglia. Io vi parlerò anche del Paradiso, per farvi innamorare sempre di più. Il mondo è pieno di malati nel corpo e nello spirito. Molte malattie ve le procurate da soli. Molte malattie le permette Dio Padre Onipotente per santificarvi. Esse vanno accettate. Molte malattie sono state guarite e ve ne saranno ancora di guarigioni per la gloria del cielo. Ma c'è bisogno di avere fede. Quante volte ho dovuto ripetere, L'ho vista e ho dovuto descriverla. Hanno tentato di confondermi, ma la verità ne era una. Anche a me la bella Signora ha donato una sofferenza nel corpo, che ho amato in silenzio. Anche a me è stato chiesto di servire il mio prossimo con pazienza, con amore. Quando lo facevo in questo modo, vedevo Gesù in quei fratelli. Fratelline mie e sorelle mie, oggi molti di voi sarete toccati dalla bella Signora. Prendete dell'acqua. Un giorno che mi apparve mi disse Bernadette, bevi alla sorgente. Ma io non la vedevo. Ho incominciato a scavare con le mie mani. Doveva esserci da qualche parte. Niente. Ma non usciva l'acqua. Ma ci ho creduto. Ma dopo un po', quando ormai venivo derisa, ecco la sorgente che ha incominciato a guarire chiunque si avvicinava con fede. Facciamola anche noi oggi. Bagnatevi le mani nell'acqua uno alla volta. Toccate la vostra parte ammalata. Fratellini mie e sorelle mie, appoggiate la mano sui vostri cuori. La bella Signora è lì, che in questo momento desidera parlarvi. Ascoltatela. La bella Signora sta sorridendo. Lei vi ama, vi ama, vi ama. Adesso devo andare. Sono molto felice di essere stata in mezzo a voi. Tornerò molto presto. Vi amo, fratellini miei. Vi amo, sorelle mie. La bella Signora ci benedice tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.